Ciao ragazzi, oggi parliamo del mio ultimo acquisto, l'Hamilton Kaki Aviation per la Red Bull Air Race. Hamilton nasce negli Stati Uniti nel 1892 e a quasi 130 anni la sua storia è ricca di avvenimenti importanti e di conquiste. Queste conquiste avvenneranno nell'industria ferroviaria, poi nel corso delle grandi guerre, nel cinema e nello sviluppo di uno dei primi cronografi automatici e anche uno dei primi orologi digitali da polso, ma soprattutto in campo aeronautico, campo che come sapete mi interessa particolarmente dato che sono io stesso un pilota. Nel 1918 un orologio Hamilton viene impiegato per il primo servizio di posta aerea tra Washington e New York. Nel 1926 invece il primo volo sopra il polo nord venne cronometrato proprio da un orologio Hamilton e l'anno successivo sempre un Hamilton era al polso dei piloti che volarono tra la California e le Hawaii. Nel 1930 Hamilton diventa quindi l'orologio ufficiale delle compagnie aerea americane più importanti e viene selezionato anche come cronometrista ufficiale per il primo servizio cost to cost da New York a San Francisco. È nel 2005 che Hamilton inizia la collaborazione con il pilota acrobatico Nicholas Ivanov. Pilota acrobatico e ambasciatore ufficiale del marchio anche oggi. Entra quindi a far parte nel mondo delle competizioni aeree e del volo acrobatico con la Red Bull Air Race. Nel 2011 poi Hamilton inizia la collaborazione con il servizio del soccorso aereo Air Zermatt per sviluppare il Kaki Flight Timer. Negli ultimi anni Hamilton continua a collaborare con le migliori squadriche aeree e con i piloti acrobatici di tutto il mondo. Mi viene in mente la collaborazione recente con il pilota acrobatico italiano David Costa. Vi lascio il link del video che hanno fatto insieme sul deserto del Namibia perché è molto figo, molto bello, andate a guardarlo. Questo orologio l'ho acquistato presso il negozio Our Passion nell'outlet di Castello Romano a Roma. Intanto ringrazio il personale molto gentile. Questo negozio vende orologi nuovi ma fuori produzione del gruppo Swatch ad un prezzo veramente ottimo e in questo periodo anche ci sono ulteriori sconti presso l'outlet. Vi consiglio di andare a visitarlo dunque. Sono il primo ad acquistare e ad aver acquistato molti dei miei orologi online sia per la comodità che per i prezzi sempre più vantaggiosi che nei negozi fisici. Ma al di là del piacere di andare a comprare di persona un qualcosa, soprattutto in questo periodo di distanziamento, il poter provare gli orologi che vi piacciono e parlarne con persone preparate ed entusiaste è sempre un piacere. Vi consente anche di conoscere meglio l'orologio su cui vorreste spendere dei soldi. Anche se poi deciderete di comprare l'orologio online, vi consiglio sempre di andare a provare di persona quello che vi piace per rendervi conto appunto se vi piace o meno realmente. La strategia dei prezzi outlet comunque è secondo me una strategia che soprattutto di questi tempi dovrebbero adottare la quasi maggioranza delle case orologiere per essere al passo con i prezzi delle varie piattaforme online e per smaltire le rimanenze di magazzino. E soprattutto per rimanere concorrenziali con gli orologi di seconda mano, orologi che io stesso preferisco andare a cercare e a trovare per i prezzi veramente ridotti rispetto al prezzo del nuovo. Comunque, nel sacchetto del negozio Our Passion troviamo una bella borsa di Hamilton che mi è stata regalata, ve la faccio vedere in video. La scatola dell'orologio, la controscatola è in un normale cartone rigido, mentre la scatola vera e propria è in cartone penso molto duro, sembra similegno. E all'interno troviamo poi ovviamente l'orologio, il manuale e la garanzia. Dal 2017 Hamilton è anche il cronometrista ufficiale delle competizioni aeree acrobatiche Red Bull e Air Race, collaborazione da cui nasce l'orologio in video. Delle versioni con complicazione data di questo orologio sono state prodotte diverse referenze, con cinturino in pelle o con bracciale, da 38 e 42 mm, con complicazione data ad ore 3 e tra le ore 4 e le ore 5, e due combinazioni cromatiche differenti. Quella in mio possesso, con quadrante argento, indici blu e sfera rossa con freccia bianca, omaggio ai colori della Red Bull, sponsor della competizione aerea. Mentre la referenza con quadrante nero, indici e dettagli arancioni, riprende i colori dell'aereo di Nikolas Ivanov, che abbiamo menzionato poc'anzi. Ho scelto la referenza da 38 mm, con bracciale, e sul mio polso da 17,5 cm, veste perfettamente. In collezione ho diversi orologi con dimensioni importanti, ma credo che, per polsi nella media, 42 mm per un solo tempo, non diver, siano un po' troppi. Per quanto riguarda la scelta cromatica, sono stato molto molto indeciso. Quella con quadrante nero e dettagli arancioni, dal vivo è davvero bella e particolare. In realtà parliamo di un grigio oscuro antracite, con lavorazione a linee verticali e con gli indici 3, 6, 9 e 12 numeri arabi. Qualcuno lo paragona addirittura al Panerai Radiomir, come impatto estetico del quadrante. Per quanto riguarda il cinturino in pelle, potrò decidere di acquistarlo in futuro dalla Hamilton, ma chi mi conosce sa che preferisco il bracciale sulla maggior parte degli orologi. Comunque, questo ha 38 mm di diametro, misura poi 44 mm di lag-to-lag, poco più di 10 mm di spessore, ed ha un passo del cinturino di 19 mm. Dimensioni contenute dunque per un orologio solido, ma allo stesso tempo leggero e comodissimo da indossare. Il vetro è in zaffero, mentre il bellissimo quadrante sembra di tipo sandwich. In poche parole, in questo tipo di quadrante, gli indici numerici e a bastone non sono applicati o in rilievo, ma sono incisi, come a rivelare una parte sottostante riempita di materiale luminescente, in questo caso superluminova di colore blu. La resa al buio, però, non è molto persistente, ho necessità comunque di una lunga esposizione ad un'intensa fonte luminosa per caricarsi. Credo che questo dipenda dal colore della pasta stessa, ma una volta al buio comunque il risultato è esteticamente molto piacevole. Le scritte Hamilton Automatic, Kaki Air Race e Swiss Made, invece, sono stampate sul quadrante principale. Le sfere di ore e minuti sono per metà scheletrate, mentre, con la rossa dei secondi, ha una punta a freccia bianca che quasi similatizza sul quadrante. La piccola sfera ad alta, tra le ore 4 e le ore 5, è molto discreta e comoda e lascia il quadrante a mio avviso ben bilanciato. La corona presenta la H di Hamilton in rilievo, un dettaglio molto piacevole e di qualità, ma purtroppo è a pressione e questo è l'unico vero difetto o mancanza di questo orologio. È vero, è un orologio che non nasce per fare il bagno e 5 atmosfere di resistenza non sono pochissime, ma come una corona a vite, che dà tranquillità di portarlo ovunque. Credo che sarebbe stato il mio orologio preferito per tutti i giorni e quello avrei consigliato come unico e miglior orologio da comprare almeno sotto i 1000€. Già ora lo sto indossando moltissimo, per la sua grande versatilità, bellezza e comodità. Se facessero una riedizione con corona a vite, credo lo comprere di nuovo, a costo di avere un quasi doppione. Sul fondello, la resistenza all'acqua è riportata anche come 72 PSI e mezzo. Il PSI, o pound force per square inches, è l'unità di misura della pressione nel sistema anglosassone, che appunto utilizza le libre di pollici ed è anche l'unità di misura molto comune in aviazione, per misurare ad esempio la pressione dei pneumatici, degli impianti idraulici o della cabina in volo pressurizzato. Un altro dettaglio che rende tanto bello e particolare ed anche resistente ai graffi questo orologio è il suo essere satinato ovunque, anche sulla lunetta, sulle sfere, sulle faccette laterali delle maglie del bracciale e all'interno della clasp. Praticamente l'unica parte metallica lucida dell'orlogio è il RO. Il fondello è a vite e tramite vetro zaffero con sopra una bella stampa ad omaggiare alla competizione aerea lascia intravedere il bel movimento H10 che anima l'orologio, con il rotore personalizzato Hamilton. L'H10 è per Hamilton la versione, diciamo in house o comunque appositamente per Hamilton, del calibro ETA C07111, il famoso elaborato da 80 ore di riserva di carica dell'ETA 2824.2 di casa Swatch. L'H10 è un calibro da 25 gioielli, con una frequenza di 21.600 alternanze, fermo macchina e ricarica manuale. Non è certificato COSCHE, ma negli ultimi 10 giorni ho notato uno scostamento di soli 3 o 4 secondi al giorno. Questo grazie ad una peculiarità di questi calibri, raggiunta tramite importanti modifiche al movimento regionario, che è l'isosincronismo, ossia la capacità di mantenere la costanza nella marcia al variare della riserva di carica. Una caratteristica che su 80 ore totali può fare la differenza. Un appunto, il rotore, quando si muove l'orologio più velocemente del solito, si fa sentire, è un po' rumoroso. Nulla di grave anormale, per carità, ma questo per dire che non è una caratteristica unica e negativa dei calibri giapponesi, spesso criticati per tale rumorosità. Il bracciale è molto solido e deriva dal pieno, compresi i finali e la clasp. Il sistema di rimozione delle maglie è quello dei perni a pressione con cilindro in mezzo. Sulla clasp, con sistema di apertura deployant, è presente la scritta Hamilton incisa in modo molto leggero. Nonostante la clasp non sia piccolissima, sono presenti solo tre fori per la micro-regolazione, altro piccolissimo difetto, secondo me. Ma comunque compensa la presenza sul bracciale in dotazione di alcune mezze maglie per una regolazione precisa. Per concludere, direi che questo orologio, con un valore di mercato di circa 500 euro, è forse tra i migliori pilot e anche tra i migliori daily watch automatici nella sua fascia di prezzo. Considerato poi che è uno Swiss made di una casa molto importante in campo aeronautico. A voi piace? Fatemelo sapere nei commenti o altrimenti cosa comprereste in questa fascia di prezzo. Se il video ti è piaciuto, per favore ti chiedo di lasciare un mi piace e di iscriverti al canale. Grazie e alla prossima. Ciao!